Siamo qui a Palazzo Pucci, nel cuore storico di Firenze, dove ha sede la LEF, Libreria Editrice Fiorentina, oggi gestita da Giannozzo Pucci, che appunto ci ospita e lo ringraziamo molto, e la LEF è una libreria storicamente molto importante, anche perché è stata, tra l'altro, la libreria che ha editato tutti i libri di Don Lorenzo Milani e anche del sindaco Lapira. Oggi la LEF prosegue la sua attività, specializzata soprattutto nel filone dell'ecologia, direi meglio dell'ecologia profonda, dell'ecologia integrale, e infatti il nostro amico Giannozzo è l'autore delle ultime due pubblicazioni, Il Bene Comune e La Rivoluzione Integrale, dedicato ai contenuti della Laudato Si. In questo palazzo storico, uno dei più antichi di Firenze, dove Giannozzo risiede, qui sulla terrazza, dove siamo, abbiamo gli orti in terrazza. Si chiamano così, è una sorta di presidio ecologico integrale, che in qualche modo domina la città di Firenze e speriamo che riesca anche ad ispirarla a una sua conversione ecologica.